Sono stati fissati per giovedì prossimo nel carcere catanese di Piazza Lanza gli interrogatori di garanzia degli indagati nell'operazione Tax Free che ha portato all'arresto di quattro persone. Intanto ha trascorso la notte in ospedale nel reparto di cardiologia del Cannizzaro e non in carcere, così come disposto dal GIP Marina Rizza, uno degli arrestati, cioè il giudice tributario Filippo Impallomeni, 71 anni, accusato dalla procura etnea di corruzione in atti giudiziari perché avrebbe utilizzato per cinque anni automobili della concessionaria Virauto di Giuseppe Virlinzi. Anche lui è arrestato perché accusato di aver beneficiato di sentenze favorevoli nel campo dei tributi. Impallomeni, che è cardiopatico, ieri sera ha accusato un malore. Le indagini della Guardia di Finanza si basano anche su intercettazioni in cui emergerebbero gravi indizi.